Che ti ho detto stamattina io? Bloomberg lo conosci? Non è come quello scurreggione di cucina, conosci Bloomberg? I proprietari del Newcastle stanno per comprare un'altra squadra, un club importante europeo. Che club sarà? Lo vedremo se saremo noi, oppure no. Però secondo me siamo noi, secondo te? Oddio, oddio, ascoltami, vada come vada. Io sono disposto a farmi prendere per il culo. A chi rompe i coglioni e prende per il culo dovete venire in live a farvi prendere per il culo se siete uomini. L'ho detto stamattina prima che uscisse questo discorso di Bloomberg. Ma io ti dico le cose perché non è che sono sicuro. Di più, la data precisa non la sa nessuno, la sapranno in due persone, in tutto il mondo. Ma arrivano i sauditi, l'Inter sarà saudita. Bloomberg, vai a leggere l'articolo di Bloomberg, anzi te l'ho posto sotto il video, ti metto il link. I proprietari del Newcastle, il fondo del Newcastle, sta pensando, non sta pensando, acquisirà un altro top club europeo. Chi sarà? Io ve l'avevo detto, occhio a rompere i coglioni, occhio perché poi dopo lì si scoprono tutti gli ometti. Parlo anche di altri canali YouTube, eh? Si scoprono tutti gli ometti, gli omuncoli. Poi se avete i coglioni dovete venire in live, eh? Anche quelli lì, quei due ragazzini lì che schiaffano le notizie sul Niter. Se sono americani venite in live con me, se non sono americani veniamo noi in live da te. Venite in live da me ma vi fate prendere per il culo, eh? Se sono sauditi a comprare l'Inter, ci stai? Me l'hai promesso, ho il messaggio di 6-7 mesi fa, eh? Intanto americani non sono, poi vediamo se saranno i sauditi oppure no. Va bene? Quindi voglio vedere chi è un uomo, eh? Se succede, se succede, io lo so che succede, ma quando poi dopo vi sveglierete tutti i sudati e capirete e leggerete che l'Inter sarà saudita, vi voglio in live, voi avete rotto i coglioni, eh? Non volleranno offese, volleranno solamente prese di culo perché ve le meritate. Soprattutto per chi lo fa per passione come me senza chiedere un euro a nessuno. Capito? Il bello deve venire. Ora mi sono un po' riposato, mi sono un po' scaricato, mi sto buttando un po' più, diciamo, sul lavoro, ma mi sto scaldando, io te lo dico. Preparati anche te, Scurregione. Occhio perché, occhio, occhio Scurregione, te sei il primo della lista, eh? Che devi venire sul canale, Scurregina. Non fare il furbo, voglio vedere. Perché poi dopo lo sapranno tutti, eh? Te sei il primo a venire sul canale, Scurregina, se arrivano i sauditi. Ciao Inter. Aspetta, aspetta, perché ora mi scardo.